Il terzo giorno della cura Cosmi per il Pescara Calcio che dopo il primo assaggio di lunedì e la doppia seduta di martedì, nei giorni di mercoledì e giovedì, ha tenuto e terrà una seduta di allenamento pomeridiana. Assenti Samassà ne avrà ancora per un mese, Balzano affetto da stiramento, Capuano a Genova per un colzulto a causa della fastidiosa fascite plantare che lo affligge ed anche Zauri assente causa frattura al naso rimediata nello scontro con Joao Pinto a Bari. Per quanto concerne la seduta di oggi, primi assaggi del nuovo modulo targato Cersei Cosmi. Nella sgambata di allenamento contro la primavera si sta provando un inedito 3-4-2-1. Cersei Cosmi sta mischiando un po' le carante, ha tenuto a riposo inizialmente Ragusa e Brugman che faranno sicuramente parte del match di Avellino, dando spazio in avanti a Caprari e Cutolo a sostegno di Sforzini. A centrocampo spazio anche per il baby croato Milicevic. Difesa presunta titolare schierata da destra a sinistra con Zuparic, Chiedovenia, Schiavi Centrale e Bocchetti. Sugli esterni Rossi, riabilitatosi dopo l'influenza e Salviato. Bovo, incursore di centrocampo. Per quanto riguarda la formazione anti-Avellino, però potrebbero esserci delle novità. Spazio al danese Nielsen, ormai assente da tempo che nei giorni scorsi è sembrato in netta ripresa. È possibile avvicendamento tra i pali, tra Belardi e Pellizzoli. Nella seduta di giovedì e nella rifinitura di venerdì ne sapremo sicuramente di più. Grazie a tutti.